Ciao ragazzi e ragazze persone, come state? Io sono Banni ma mi potete chiamare Ili o Ili Gabbi o Ili Gabbi Blombo Come state oggi? Allora, io non sto benissimo perché ho sempre sonno e sono anche positivo E quindi sono confinato in questa stanzetta e posso andare solo in bagno Yeee Mannaggia, di cosa si tratta il video di oggi? Oggi, allora, vi spiego che cosa ho fatto Se mi seguite su Instagram, se non lo fate, seguitemi Finite il video e poi andate a seguirmi Trovate il link sotto nella descrizione Oppure qua in alto Va bene Che cosa consiste questo video? Io su Instagram, per chi mi seguisse, ho deciso di fare questa specie di challenge Ovvero la photo challenge di un mese Quindi io per un mese ho scattato una foto al giorno E una sola foto al giorno E diciamo che mi è piaciuta, è stato figo Gli ultimi giorni mi stavo un po' rompendo le scatole Perché avevo scattato delle foto bellissime Ma non potevo pubblicarle perché non rispecchiavano il tema Della foto challenge Perché ovviamente ogni giorno avevo una foto a tema Ad esempio Se il primo giorno avevo una foto a tema amore Dovevo pubblicare ad esempio una foto con il mio fidanzato Oppure che ne so Giorno 30 Una foto con il mio maglioncino Capite bene che Se dovevo pubblicare quel tipo di foto Non potevo mettere una foto Ad esempio dove indossavo un vestito Perché dovevo mettere una foto Dove indossavo un maglioncino E quindi niente Adesso vi mostro le varie foto E spero che questo video vi piaccia Poi se replicate la photo challenge Taggatemi, grazie E diciamo che la photo challenge è iniziata il Cioè appunto è iniziata il 7 E' iniziata il 7 Di novembre Ed è finita ieri il 7 di dicembre Dovevo pubblicare il video Ma non l'ho fatto perché Avete capito? Ero stanco morto E niente Via col video Ciao Intanto cominciamo Vabbè qua ho il feed Metto like a Shanti Ciao Shanti se stai guardando questo video Sappi che ti seguo e ti voglio tanto bene Allora Questo è il mio profilo Ho 503 follower Seguo 1500 persone E ho 174 posti in tutto Questa è la mia bio Bellissima E diciamo che Questo qui è il mio profilo Sì Ve lo mostro un attimo Perché magari vi piace E trovate l'ispirazione giusta Per seguirmi Non lo so Allora Vi chiedo scusa per le cringiate Che pubblicavo un tempo La maggior parte Cioè Il mio primo post risale al 2018 Anche se io Instagram l'ho aperto nel 2017 Tipo Anzi Sì Gennaio 2017 Avevo Undici anni E vai Sì ero curioso Ed ero curioso di vedere Instagram Vabbè Scusatemi le varie cringiate Che pubblicavo Meno male non le pubblico più Ecco Le foto iniziano da questa Questa è dedicata al primo giorno Foto dedicata all'amore Ho deciso di provare questa sfida Fare una foto diversa ogni giorno Con un tema Se volete farla Terza slide Sarà uno spasso Infatti Terza slide Tanto guardate che carini Io e il mio fidanzato E questa era Era la slide Per chi volesse farla Giorno 2 Foto allo specchio Scusate l'aspetto Ma avevo febbre Sì avevo la febbre In quel momento Giorno 3 Foto Blarrata Sfocata Quello che volete Ecco E qua Se potete leggere la descrizione Tu eri Il mio ciao Preferito E il mio addio Più difficile E questo era dedicato Perché Quell'esatto giorno È scomparso il mio cagnolone Manny Infatti Io qua ero tristissimo E infatti Potete vedere Dallo sguardo Che non ero molto contento Sembro un fantasma E qua E qua era la zampetta Dedicata al mio cagnolino Giorno 4 Selfie Sono ancora triste Per il mio cane Ma sto cercando Di sorridere E qua Vabbè Qua ero io Questa è una delle mie foto preferite Poi Giorno 5 Foto al cibo Allora Pokeball vegan Fatta da me Con avocado Riso Venere Promodori Carote Salsa di soia La foto è di un anno fa Ho smesso di fare le foto al cibo Sì ragazzi Ho smesso di fare le foto al cibo Poi Giorno 6 Era dedicata All'animale A una foto Di uno dei miei animali Dedico questo giorno All'ultima foto Del mio cane Ora sto facendo passare il tutto Mi mancherai un sacco E questa qua È l'ultima foto Che ho scattato al mio cane Mi manca un sacco Giorno 7 A scuola Foto fatta a ricreazione Personalmente adoro Sì infatti era ricreazione Qua c'è la foto Del televisore Perché non abbiamo la lima Abbiamo il televisore interattivo Dove si può anche disegnare Fantastico Qua ho fatto gli appunti Di spagnolo E niente Poi foto Alla mia stanza Infatti c'è scritto Bebili Quando ero piccolo Tutte le maestre Dicevano che avevo qualcosa Di particolare Sarà mica l'inquietante Sorriso Direi di sì Infatti questo sono io Questo sono io Questo sono io E qua c'è la slide Quale foto preferite Io personalmente Questa Questa Qua è la mia preferita Di quando ero piccolo Qua Giorno 10 Arte Quando la tua prof di inglese Diventa una prof di arte Fa disegnare Fa schifo Ah e lo ha detto lei Che fa schifo Sì infatti mi ha detto Che faceva schifo Ed è questo il mio disegno Perché Devo farlo più grosso Però personalmente A me non faceva schifo Mi sono messo a piangere No non è vero Invece sì Giorno 10 Softcore Bunny bag Perché infatti È lo zaino del coniglietto E vabbè Giorno 12 Questa foto Dovevo fare Supermarket Questa foto Dovevo farla Al supermercato Ma dato che Non ho mai avuto tempo In quei giorni Di andarci Mi sono fatto una foto Nella mia dispensa Infatti c'è scritto Nella descrizione Dal momento che Non ho avuto tempo In questi giorni Di andare al supermercato Per la foto Fate finta Che il mio garage Barra dispensa Sia un supermercato Stessa cosa Ho fatto qui Dovevo farmi una foto Col fiore Ho usato il cactus Non avevo un fiore Uso il cactus Gentilmente regalato Dal mio amore Infatti Fato con il cactus Ecco Questa foto Anche questa Un giorno particolare Perché l'ho fatta Il giorno del T-door Ho fatto la foto Al mio outfit Che era Che era tipo Felpa nera Pantaloni neri E maglietta nera Giacca nera Vabbè Tutto nero Io c'ho proprio Fantasia Giornata Giornata 14 Outfit Poi ne ho preso Un altro Perché ne li avevano Portati loro Però vabbè C'è scritto Chloraclero Da qui la citazione Poi Giorno 15 Foto sulle scale Oggi sono Dio La descrizione Dice proprio Questo Ed eccomi qui Giorno 16 Foto All'occhio Io ne ho fatte tre Questa era la foto Allora vabbè Non tre Questa e questa foto Sono uguali Solo che qua Ci ho messo il filtro Per renderla più bella Questo è il mio occhio Il proprio mio occhio Col flash Questo senza flash Personalmente preferisco Questa editata Col filtro Il mio colore di occhi Sarebbe questo marrone Questo marrone Però non troppo Cioè scuro Ma non troppo Ripa il mio occhio Per la foto col flash Esatto Poi qua Countryside Non avevo Foto dal 2020 Quando avevo i capelli lunghi Questo era Stavo andando Al mio primo appuntamento Foto Giorno 18 Sul letto Ovviamente Questa è una foto Che ho fatto Giorno 19 Mattina E qua ho parlato Della giornata Contro la violenza Sulle donne E anche Della mostra Che avevamo visto A scuola Infatti Ve ne ho parlato Pure su youtube E direi che Mi è piaciuta Molto Cioè è piaciuta Mi sono piaciute Le opere Quello che rappresentavano E la cosa che La mia opera Preferita è stata questa Perché ognuno Poteva dare La sua libera Interpretazione Io ad esempio Ho Tipo ho descritto Quest'opera qua Con gli occhi Però vabbè Giorno 20 No face Shy guy E niente Questa foto Non mi fa impazzire Non mi piace Tanto come è venuta Giorno 21 Detail Detail Fuck a princess And my king Better than kiss Fuck a princess And my king Better than kiss And my ring Being a bitch Is my king What the fuck Did you think Fuck a princess And my king Better than kiss And my ring Ok basta E qua ho fatto Le mie foto Agli anelli Poi qua Una foto IG Qua mi stavo mettendo A studiare E qua ho fatto Cos La storia Praticamente Dato che era Troppo grande Ho tagliato Questa parte In questa parte Si lasciamo stare Giorno 23 Al cielo Direttamente Dal 2019 Guardate che bella TV Serie tv Giorno 24 Serie tv Ho iniziato Squid Game Sono alla puntata 3 La foto challenge Termina tra qualche giorno Tutto è molto divertente E Qua ho tolto i commenti Perché se no la gente Mi spoilerava la serie E vai E li tolgo pure Su youtube adesso Perché tanto so già Che qualcuno nei commenti Me la va a spoilerare Adesso che ho detto A che episodio sono Giorno 25 Amici Incontri Tu incontri persone Che ti dimenticano Incontri Tu dimentichi Le persone Aspetta che la rileggo Che mi sono perso Allora Le persone che incontri Ti dimenticano Tu dimentichi Tu dimentichi le persone Che incontri Ma a volte Incontri Quelle persone Che non puoi dimenticare Quelli sono i tuoi amici Ti dimentichi Mi manchi tanto Perché qua Ho tagato la mia amica E le voglio tanto bene Ciao Basma Giorno 26 Foto alla mascherina Buonanotte E niente Giorno 27 Tumblr Inspired Ok forse non è proprio come le classiche foto che trovi su Tumblr Ma in questa foto ero bellissimo Esatto Poi Giorno 28 In strada Sì Belle esibuzioni canore Perfetto Qua Giorno 29 Devil vs Angel Soi un angel Soi un diablo Io un cicomallo Infatti Vedete La foto è questa Diablo Soi un diablo Esatto E qua ho la mia foto Una delle più belle Secondo me Neanche questa foto mi piace L'ho fatta lo stesso giorno In cui la dovevo fare Con No face E direi che Giorno 30 Col maglioncino Domani finisce la challenge Non vedo l'ora Perché mi ero già rotto le palle Sì E giorno 31 La mia preferita Queste due sono Due delle mie preferite Questa è la fine Della foto challenge Infatti qua ci sono io Bellissimo Qua ci sono io Con i baffoni E direi che la challenge E direi che la challenge È finita qua Poi ci sono le ultime Pubblicato Sì Questa è il mio gatto E poi qua ci sono io Mi metto like Jingle bell Jingle bell Jingle bell rock Jingle bell swing Ok basta Non me la ricordo più Questa canzone Non sono per niente bravo Vabbè E praticamente Se mi chiedete Perché mi metto like da solo Perché io Proprio non sopporto Vedere Il like Vuoto Cioè proprio Vederlo così Non lo sopporto Mentre vederlo così Mi fa stare bene Non so perché Avrò problemi Io Sì Direi che Qua possiamo finire Intanto metto like A questo E a lo fai girl E a questo E anche questo E a lei Ok basta Il video finisce qui Con questi bellissimi Momenti ignoranti E niente Yeah Goodbye Iscrivetevi a questo canale Condividete il video Con i vostri amici Se volete Mettete like E niente Noi ci rivediamo Al prossimo video Ciao Tra qualche giorno Usciranno i sottotitoli In inglese Perché devo farli Noi ci rivediamo Noi ci rivediamo Noi ci rivediamo Noi ci rivediamo Noi ci sianan